Ciao Marcello, ciao amici Topplanet, Topland, amici di Whatsapp, agli ospiti e a Delio, naturalmente. Quarta vittoria, prima in classifica insieme ai prescritti, i prescritti speravano che la Juventus non vinceva, invece abbiamo risposto. Un bel 3-1 pur soffrendo contro il Sassuolo, protagonista senza ombra di dubbio di Bala, settimo gol in quattro partite, capo cannonieri in questo momento della Serie A. Che dire Marcello, sono contento, abbiamo risposto dopo aver preso una batosta, purtroppo in Europa, ci siamo subito ripresi con un bel 3-1. Sassuolo, una partita equilibrata, abbiamo avuto anche qualche piccola occasione nei primi minuti, però poi di Bala ha sbloccato con un bellissimo gol, i suoi magici gol da fuori classe. In attesa delle altre partite che si giocheranno oggi, siamo al momento primi insieme ai prescrittesi, in attesa anche dei napoletani che giocherà oggi, però ora naturalmente godiamoci questo primato. L'unica nota negativa, ahimè, è la difesa. La difesa, come sempre, subiamo, ogni partita subiamo un gol, l'errore di Licksteiner ha riaperto sul 2-1 la gara, però ci ha pensato lui il fenomeno di Bala. Ora, testa a mercoledì, si gioca subito, già da domani bisogna pensare alla Fiorentina, una partita tostissima, quindi dobbiamo assolutamente vincere e poi naturalmente si vedrà. Ora, vi saluto Marcello, sempre e comunque, fino alla fine, forza Juventus, il pianeta è bianco-nero, siamo tornati. Ciao Marcello!